Faccio parte dell'equip multidisciplinare del servizio interdiocesano per la prevenzione, l'ascolto e la tutela dei minori e nello specifico per lo sportello d'ascolto sono addetta all'ascolto delle richieste. Fornisco quindi una prima accoglienza delle persone, dando informazioni sulla modalità di accesso e di lavoro del servizio e do un primo ascolto alle persone fornendo poi un primo colloquio conoscitivo di approfondimento e di conoscenza della situazione con i professionisti dell'equip addetti all'ascolto. Per contattare il servizio si può mandare una mail a tutelaminori chiocciolamodena.chiesacattolica.it oppure telefonare giovedì dalle 14 alle 16 al 345 0572 800. Grazie a tutti!